Risultati elezioni 2022 Ieri ci sono state le elezioni, 25 settembre Oggi sappiamo quali sono i risultati effettivi Partiamo dalla Camera dei Deputati Fratelli d'Italia si conferma il primo partito a livello italiano Il 26,2% dei voti sono stati raggiunti alla Camera PD, secondo partito, 19,2% Movimento 5 Stelle 15,1% Lega di Matteo Salvini 8,9% Forza Italia 8,1% Azione Italia Viva 7,7% Sinistra Italiana Verdi 3,7% Più Europa di Emma Bonino 2,9% Italexit di Gianluigi Paragone 1,9% E infine Unione Popolare 0,5% 1,5% E poi noi moderati 0,5% 2,5% Di impegno civico 0,5% 1,0% Ecco questi sono stati i risultati per quanto riguarda la Camera Vediamo invece il Senato Anche al Senato si conferma il primo partito politico Fratelli d'Italia Che ottiene il 26,3% dei voti raggiunti Al secondo posto in Italia 300 Il partito depurato del PD 19,1% Movimento 5 Stelle 15,3% Lega 9%, Forza Italia 8,3% Sinistra Italiana Verdi 3,6% Più Europa 3,0% di 3% Italexit di Paragone 1,9% Olore Popolare 1,5% di Luigi De Magistris Noi moderati 1,1% Impegno civico non si sa Come anche azione Italia Viva Bene, vi ringrazio per l'ascolto Dunque questi sono i risultati effettivi Il giorno dopo le elezioni di ieri 25 settembre 2022 Elezioni politiche per rinnovare la Camera e il Senato della Repubblica Italiana Dunque la vincitrice o il vincitore che dir si voglia di queste elezioni è Giorgio Ameroni o per meglio dire Fratelli d'Italia Iscrivetevi, commentate Ciao da Leandro, narratore italiano